Immediate le reazioni, la prima, quella dell'inviato speciale per l'Italia, Staffan de Mistura, la tattica dilatoria è un atteggiamento che suscita sdegno, ha detto pochi minuti fa, e Tajani invece, il vicepresidente, commissario europeo dell'industria, spiega il nuovo rinvio è incomprensibile e chiede il rispetto dei diritti umani. E proprio in questi minuti, davanti all'ambasciata indiana, è in corso un'iniziativa promossa dal vicepresidente del Parlamento europeo, Roberto Angelilli, dai giovani del nuovo centrodestra. Allora, andiamo subito da Pino Finocchiaro. Buongiorno. Buongiorno, sì, sono qui con l'onorevole Roberto Angelilli. Ci chiediamo, dopo quest'ennesimo rinvio, è possibile che due militari italiani in servizio per proteggere una nave in base ad un mandato preciso del governo italiano siano ancora lì, non solo in attesa di giudizio, ma è in attesa di conoscere persino il capo di accusa. È una situazione paradossale persino per noi che ci lamentiamo dalla giustizia italiana. Il comportamento dell'India, delle istituzioni indiane, è semplicemente sconcertante e vergognoso. Oggi il ventisettesimo rinvio ho perso il conto. Io credo che la comunità internazionale si debba interrogare proprio su questo comportamento. L'India è ancora un paese democratico, è ancora uno stato di diritto. Due anni di rimpalli non riescono neanche a prendere una decisione, a dire quali capi di imputazione pendono su questi due cittadini italiani, cittadini europei, ma soprattutto militari. Dobbiamo ricordarlo e dirlo a voce alta, si tratta di due militari italiani impegnati in una missione internazionale antipirateria in acque internazionali. Quindi sono sequestrati da due anni, sottoposti di fatto al giudizio di autorità nazionali indiane, quando sarebbe assolutamente normale e pacifico che questi due militari fossero stati immediatamente rimpatriati e giudicati da un tribunale italiano nazionale. Non è mai accaduto, mai accaduto, che due militari impegnati in una missione internazionale fossero giudicati da un tribunale nazionale di un altro Stato membro. Cioè, ci dobbiamo interrogare, l'Italia si deve interrogare sulla possibilità di sospendere la partecipazione a tutte le missioni internazionali. Perché non c'è più diritto, non c'è più garanzia. L'India ha letteralmente calpestato tutti i trattati internazionali, oltre che chiaramente i diritti umani fondamentali di due militari e di due cittadini. L'Italia deve pretendere dalla comunità internazionale, dall'Europa soprattutto, di un'unica richiesta noi vogliamo a questo punto, cioè il rimpatrio immediato. L'India, noi ci troviamo qui sotto l'ambasciata, di fronte all'ambasciata dell'India, è anche un grosso partner commerciale, ci sono altri elementi di frizione come quello della vicenda degli elicotteri che si dovevano vendere agli indiani, ma c'è un import-export imponente tra Italia e India. Tutto questo non può minacciare anche i nostri rapporti commerciali e industriali. Mettere insieme questi due argomenti è semplicemente inaudito ed inaccettabile. L'India non ci può ricattare, non si può permettere il lusso di ricattare né l'Italia né l'Europa. Ad un certo punto ha persino minacciato la pena di morte, sta trattando questi due militari, lo ripeto per l'ennesima volta, impegnati in una missione internazionale, al servizio pertanto della comunità internazionale, li sta trattando come due terroristi. Ma è assolutamente assurdo e comunque noi non accettiamo ricatti. Certamente non possiamo fare compromessi a ribasso sulla pelle di questi due nostri concittadini, di questi due italiani e se l'India pensa di ricattare la comunità internazionale, la comunità internazionale deve porre delle questioni molto serie anche alle Nazioni Unite. Per il momento è tutto dall'ambasciata dell'India in Italia. se avete domande del studio...